La gente si è sentita dimenticata dalla politica, l'analisi del voto del chiavarese Roberto Traversi è eletto alla Camera col Movimento 5 Stelle, a Roma dice porterò pratiche come il depuratore e diga per figli. Al vaglio della maggioranza è riassetto di Piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, tra le novità lo spostamento del capolini ATP a San Pier di Canne ed una rotonda dinnanzi al monumento. Verso l'assemblea al Comitato Assistenza Malati Tigullo, nel bilancio oltre 66 mila euro per attrezzature e 100 mila euro per borse di studio, obiettivo potenziare l'ospedale di Lavagna. Tutta la vita deve essere un'azione di grazia, così il Papa all'udienza generale di oggi Francesco ha firmato il decreto per la canonizzazione di Papa Paolo VI e di Monsignor Romero. Arriverà in Italia Click to Play, l'applicazione smartphone per pregare con le intenzioni del Papa ad aderire oltre 210 paesi e 100 milioni di iscritti. Buongiorno a tutti, benvenuti al TG13, in apertura anche quest'oggi l'analisi al voto alle politiche 2018 e anche nel Levante il Movimento 5 Stelle ha raccolto numerosi consensi. Eletto alla Camera Roberto Traversi, architetto di Chiavari, candidato nel Collegio Uninominale 3 di Genova. Traversi analizza il voto e dice che la gente ci ha dato fiducia perché si è sentita dimenticata dalla politica. L'abbiamo intervistato. Questo esploat come viene visto da voi? Sì, è stato un grandissimo risultato, però a noi non ha portato una grandissima sorpresa perché facendo attivismo periodicamente abbiamo visto piano piano la nostra valutazione aumentare. Io ad esempio ho fatto campagna elettorale a Genova-Sararico, sono stato eletto lì, girando per le strade, frequentando quei quartieri un po' agli estremi. Ho vissuto proprio sulla mia pelle questa voglia anche dei cittadini di incontrare anche i politici. Dove arrivano questi voti? Nel mio ambito, dove mi sono confrontato io, è stato semplicissimo perché sono ambiti dimenticati dalla politica con tantissima forza a lavoro che ha avuto delle leggi che poi non hanno favorito i lavoratori. Nessuno li ha tutelati in questi anni. Quando poi arriva il momento finalmente di votare, naturalmente si raccoglie poi il frutto del politico che ha dimenticato il territorio. Non è il nostro concetto quello della Lega, insomma, di avere un voto di pancia. Il nostro concetto è un po' più raffinato, più difficile da capire. Parliamo di bene pubblico, quindi per noi è fondamentale quello. Lei andrà a Roma adesso, porterà alcune esigenze del territorio? Assolutamente sì, perché devo ricordare la Val Polcevera, ma io ho sempre fatto attivismo su Chiavari, quindi ci sono delle priorità da salvaguardare e cercare di risolvere. Il primo problema che abbiamo a Chiavari e quindi nelle valli è il depuratore. Quello assolutamente è la prima cosa da risolvere perché sono dieci anni che ne parliamo e non siamo mai riusciti a fare sintesi e ci vuole un depuratore per tutta la zona. Vi direi anche la dica per figli, seconda cosa, quella invece siamo molto contrari perché... Rispetto ai piani di bacino, invece che migliorare la situazione, mi avviso, la peggiorerà. Adesso si tratta di formare il nuovo governo, si parla già di alleanze, che cosa c'è sul piatto? Ovviamente saremo importanti, però per fare delle valutazioni politiche ovviamente mi devo unire ancora a Gruppa Roma, succederà nei prossimi giorni, quindi appena chiuniremo decideremo quale sarà la strategia. L'amministrazione comunale di Chiavari sta vagliando il riassetto complessivo di Piazza Nostra Signora dell'Orto. Il progetto dell'architetto Nicolini di Sestri Levante ha trovato consensi nella maggioranza. Si articola in quattro lotti. Il più articolato riguarda l'area antistante, il monumento a Vittorio Emanuele e il capolinea di ATP. Sentiamo. Nel riassetto complessivo di Piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari un aspetto importante riguarda lo spostamento del capolinea di ATP. Abbiamo trovato un accordo con i vertici di ATP per spostare il capolinea delle corriere a San Pier di Canne e questo permette due benefici. Il primo è che il contratto di servizio che paga il Comune, che è oltre 220 mila euro che diamo ad ATP, servirà tutta la zona della città. In questo modo ogni 20 minuti e mezz'ora avremo una corriera che proseguirà tutta la nostra città. Via il capolinea e cambio di direzione di marcia per la via dinanzi alle poste percorribile dalla stazione verso via Larata con una piccola rotonda di interconnessione dinanzi al monumento a Vittorio Emanuele II. La variazione riguarderà anche l'area di fermata delle corriere. I bus fermeranno tutti davanti alla stazione. Ho chiesto alle ferrovie dello Stato una porzione di terreno per far sì che le fermate siano più adeguate alla sosta. Inoltre anche il punto vendita di ATP verrà spostato che adesso è in piazza. Stiamo cercando col consigliere Canne poi un accordo con la cura per dargli un locale in corsa a Sarotti. Un aspetto significativo del progetto riguarda il riordino di via Medaglie d'Oro e della zona verde a Tigua. Una rivitalizzazione giochi per bambini dove attualmente di fronte alle poste, quindi allargamento dalla parte verde, l'eliminazione di questo pergolato dove sono attualmente le biciclette a fianco al seminario e l'installazione di giostre per bambini per rivitalizzare un po' tutta questa piazza che è bella. Per i parcheggi che inevitabilmente saranno sacrificati in piazza è già al vaglio una soluzione. I parcheggi che andremo inevitabilmente a perdere su questa piazza verranno aumentati tramite l'acquisizione di un binario morto nel parcheggio di Corsa a Sarotti dove è previsto 50 parcheggi proprio qua a 100 metri insomma. Il progetto per la sua realizzazione ha bisogno di fondi attualmente non a bilancio che il sindaco confida di trovare almeno per il primo lotto entro la fine dell'anno. La mia intenzione sarebbe quella di trovare le risorse entro fine anno per appaltare perlomeno il primo lotto che dovrebbe durare un paio di mesi. Si svolgerà a Chiavari l'anno all'Assemblea del Comitato Assistenza Malati Tigulio. L'appuntamento è per venerdì alle 19 all'Hotel Monterosa. Sarà l'occasione per fare il punto sull'attività del sodalizio in un percorso di maggior sensibilizzazione sui temi legati alla sanità avviato nel corso del 2017 che ha portato avanti sul territorio del Tigulio. Ne abbiamo parlato nella trasmissione Buonasera andata in onda ieri, ora vi proponiamo una breve sintesi. Il bilancio che sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci del Comitato Assistenza Malati Tigulio presenta come ogni anno numeri significativi. Il sodalizio che si avvia verso il 36esimo anno di età si adopera da sempre al servizio dell'ammalato cercando di offrire un servizio di qualità sia dotando di strumenti adeguati le strutture ospedaliere sia favorendo la formazione del personale addetto alle diagnosi e alle cure. Siamo intorno ai 66 mila euro per le attrezzature e intorno quasi a 100 mila invece per borse di studio. Qui è opportuno fare un inciso perché qualcuno ci ha obiettato già in via preliminare che c'è un certo sbilanciamento tra le borse di studio e le apparecchiature ma qui non si tiene ancora conto dell'apparecchiatura che ci siamo impegnati a donare al pronto soccorso di Lavagna che è una radiologia telecomandata del costo di circa 250 mila euro e qui dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questa raccolta di fondi. Sono già state pagate però nel 2018 la metà, c'è circa 125 mila euro che non compagnano qua proprio perché non di competenza dell'anno 2017. Nel 2017 in particolare il Comitato ha iniziato una serie di incontri sul territorio per sensibilizzare la popolazione ed arrivare alla stesura di un manifesto bianco sulla sanità locale. Diversi gli spunti già emersi, la riorganizzazione della rete ospedaliera dell'ASL4, la Casa della Salute in Fontana Buona, la nuova stagione dei medici di famiglia. Centrale resta il potenziamento dell'ospedale di Lavagna. Bisogna completare questo ospedale per tutti i malati acuti. Che cosa sono i malati acuti? Sono i malati che hanno bisogno urgentemente di essere curati. Quindi uno quando entra all'ospedale al pronto soccorso di Lavagna deve trovare la soluzione, la cura. Poi la soluzione è un'altra cosa, però deve trovare delle risposte. Il Comitato nel frattempo prosegue gli incontri volti a far conoscere alla popolazione locale priorità e obiettivi da mettere a segno. Dopo Chiavari, Calvari e Carasco il prossimo incontro sarà rivolto agli abitanti della Val Petronio e si terrà a Sestri Levante il 16 marzo. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in via Piacenza a Chiavari per un incendio in un appartamento. I proprietari erano in casa e si sono accorti del rogo divampato nella veranda che è andata distrutta. Sul posto la squadra di Chiavari, l'autoscala, i carabinieri per le indagini. Le cause sono ancora in corso di accertamento. I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato due stranieri, un 55enne e un 48enne entrambi con precedenti, per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti. I militari hanno sequestrato numerosi capi di abbigliamento ed accessori vari per un valore di circa 2000 euro. Apriamo ora la pagina ecclesiale con la catechesi tenuta da Papa Francesco all'udienza generale di oggi. Il Papa ha spiegato ai pellegrini il significato della preghiera eucaristica, cuore della messa in vista del momento della comunione. La Chiesa, corpo di Cristo, prega per tutti, ha detto Francesco. Nessuno ha niente dimenticato nella preghiera eucaristica, ha aggiunto, ma ogni cosa è ricondotta a Dio. Ma l'importanza della preghiera sta anche in un altro fattore. Sentiamo direttamente dalle parole del Papa. E inoltre ci insegna a coltivare tre atteggiamenti che non dovrebbero mai mancare nei discipoli di Gesù. I tre atteggiamenti. Primo, imparare a rendere grazie, sempre e in ogni luogo, e non solo in certe occasioni, quando tutto va bene. Secondo, fare della nostra vita un dono di amore, libero e gratuito. Terzo, costruire la concreta comunione nella Chiesa e con tutti. Dunque, questa preghiera centrale della messa ci educa a poco a poco a fare di tutta la nostra vita una eucaristia, cioè una azione di grazie. E Papa Francesco ha autorizzato il prefetto della congregazione per le cause dei Santi alla promulgazione dei decreti per la canonizzazione di Paolo VI e Monsignor Romero. Vediamo la notizia pubblicata sul sito del Centro Televisivo Vaticano. Paolo VI e Oscar Arnolfo Romero saranno presto Santi. Il Papa, ricevendo in udienza il Cardinale Angelo Amato, prefetto della congregazione della causa dei Santi, ha infatti autorizzato il dicastero Vaticano a promulgare i decreti riguardanti il miracolo attribuito all'intercessione del Beato Paolo VI e poi anche ha autorizzato il miracolo attribuito all'intercessione del Beato Martire Oscar Romero, Arcivescovo di San Salvador. Questa appunto la notizia pubblicata sul sito del Centro Televisivo Vaticano. Chiesa Tecnologie Giovani, per raggiungere tutti i fedeli, il Papa ha un'applicazione per la sua rete mondiale di preghiera, Click to Pray. L'invito è quello di pregare insieme, connettersi e condividere attraverso le sue intenzioni e poiché ogni giorno è diverso, il sito offre una preghiera per i 365 giorni dell'anno. Portoghese, spagnolo, francese, inglese e tedesco e ora anche italiano. Già attiva in 210 paesi del mondo, la piattaforma digitale promossa dalla rete mondiale di preghiera del Papa conta oltre i 100 milioni di utenti. Click to Pray è un'applicazione smartphone per pregare insieme, secondo le intenzioni del Papa, ma anche per aiutarsi a vicenda e scambiarsi il sostegno spirituale. È uno strumento a servizio, in particolare dei giovani, ma in realtà di tutti, un modo ulteriore per pregare, per essere in comunione e per sostenere il ministero del Papa, dunque anche la sua preghiera. Il funzionamento dell'applicazione è molto semplice, propone tre momenti di preghiera al giorno con testi brevi che invitano a entrare in un'esperienza spirituale. L'applicazione non intende comunque sostituirsi alla pratica tradizionale della fede, quanto piuttosto incentivarla. Mese per mese il Papa indica delle intenzioni, toccando di volta in volta argomenti, tematiche, problematiche che appunto il Papa con largo anticipo ha individuato, ha focalizzato, invitando appunto tutti ad unirsi alla sua preghiera per queste necessità. Capita che Click to Pray sia usata dai ragazzi per mostrare ai loro nonni come si utilizzano le applicazioni nello smartphone. La cosa bella appunto della tecnologia, del digitale, della virtualità in questo senso è proprio che elimina le distanze e dunque avvicina luoghi, realtà, porzioni di umanità che di per sé sarebbero destinate a non incontrarsi mai e che invece possono con queste nuove possibilità incontrarsi e scoprire nuove forme di fraternità e di comunione. Da anni ormai un gruppo di amici residenti nel Tiguglio sostiene l'ospital di San Carlos in Messico. Le scelte politiche degli ultimi anni non hanno favorito lo sviluppo della regione, il Chiapas e numerosi i casi di denutrizione. A parlarne questa sera in Missione Mondo, Nicoletta Baroero, volontaria di Lavagna. Un'anticipazione. In Chiapas la situazione è tristemente peggiorata, lo scrive Suora Dela ai volontari del Tiguglio che ogni anno aiutano l'ospital San Carlos, di cui la religiosa è direttrice, situato ad Altamirano, sud del Messico. A causa di questa involuzione, dice Suora Dela, il progetto è cambiato. Le suore non si occupano più soltanto della salute della popolazione indigena, ma affrontano anche i problemi di denutrizione dei bimbi tra 0 e 5 anni. I volontari del Tiguglio sostengono il Chiapas ormai da diversi anni. Ci sono 56 bimbi attualmente che vengono seguiti. I bambini arrivano all'ospedale per delle patologie magari comuni e viene riscontrata una carenza alimentare grave, quindi vengono inseriti in questo progetto e le suore si occupano non solo di dare alle famiglie, diciamo, gli alimenti, il latte in polvere, gli alimenti per integrare la loro nutrizione, ma svolgono anche un'importante opera di educazione. C'è un grande affetto che lega le religiose di Altamirano con i volontari tigullini. Non ci sono soltanto i fondi inviati, lo scorso anno 4.500 euro, di cui una buona fetta dalle offerte raccolte con il presepe del Brunzin di Lavagna. Nel tempo ha preso forma un vero e proprio rapporto di amicizia. C'è questo rapporto molto affettuoso, molto diretto, che condividiamo poi con gli amici. Io mi incarico di tradurre queste mail dallo spagnolo e diciamo si è instaurato, anche se siamo a distanza e magari non ci conosciamo fisicamente, si è instaurato un bel rapporto. Nella sua ultima lettera, Suora Dela spiega che in ospedale è giunto un bimbo di nove mesi così denutrito da avere l'aspetto di un neonato. Tuttavia, nelle parole della religiosa si legge anche tanta speranza. Noi stiamo lavorando insieme, noi da una parte dell'oceano e voi da quell'altra, ma uniamo i nostri sforzi e non importa dove siamo, ma possiamo offrire salute e una carezza affettuosa. L'approfondimento dunque questa sera nella rubrica Missione Mondo in onda alle 21.10 su Telepace 1 al canale 15. Accogliere oltre la paura il titolo dell'incontro in programma questa sera al centro Benedetta Acquarone di Chiavari. Si tratta di un momento di confronto tra operatori e volontari impegnati nel servizio di accoglienza dei migranti sul territorio. Tra i vari interventi segnaliamo quello dell'etnopsicologo Davide Bonfanti e della psicologa clinica della comunità Chiara Carlini. L'inizio è alle ore 21. Spogliamo ora le pagine dei quotidiani insieme a Marco Rebello, poi tutte le altre notizie e gli aggiornamenti. Avvenire titola Movimento 5 Stelle e Lega, alleanza solo sui programmi e Mattarella resta neutrale e i partiti diano la soluzione. Prime prove di difficile confronto tra i poli, Di Maio e Salvini offrono intese su punti specifici, Renzi al PD chi vuole allearsi lo dica. E buone notizie arrivano in campo internazionale, Nord Corea svolta per il negoziato, Kim a Trump dialogo e stop ai test e vedrà il leader del Sud. Firenze, senegalese ucciso, ci sono tensioni in piazza. E poi sopra, presso l'annuncio, Paolo VI e il Cardinale Romero saranno santi, doppio sì di Papa Francesco. Liberi di partire, liberi di restare, titola Avvenire, è un progetto e vediamo, anzi sono dieci progetti, presentati i primi dieci progetti di questo importante pacchetto, la campagna di aiuti finanziata dalla CEI con 5 milioni e 600 mila euro, iniziative create già nei paesi di partenza, in tre anni 30 milioni dall'otto per mille per 40 proposte di Caritas, Diocesi e ONG. Ai migranti si va incontro. Siamo sul secolo XIX di Maio, no dei big del PD, il leader 5 Stelle vuole l'incarico pieno, non farò la fine di Bersani, Confindustria apre al nuovo corso, diciamo così. E poi intervista a due ministri liguri, Orlando e Pinotti, lo sbarramento dei ministri liguri all'ex premier Renzi. Grande opere, alto là del sindacato, allo stop dei 5 Stelle, soprattutto per il terzo valico Ligure. E poi la Liguria si mobilita per il pesto come patrimonio dell'UNESCO, come è accaduto per la pizza. Genova, candidatura sostenuta da iniziative in piazza e torna anche il mondiale del pesto con il mortaio. Viaggio post elezioni, i levanti e i democratici perdono anche sestri ma tengono... Vediamo nelle pagine del Levante. Parto per Roma e prometto che gli impegni su investimenti in sanità, infrastrutture, ricettività, occupazione e ambiente dei quattro esponenti del Levante e Ligure che saranno presenti nei due rami del Parlamento. Sono Roberto Bagnasco per Forza Italia, Luca Pastorino, Liberi Uguali, Roberto Traversi, Movimento 5 Stelle e Vito Vattone per il Partito Democratico. Ancora all'interno di secolo XIX, Mary Lane dal Camerun studia per diventare operatore sanitario, ospite della Casa Stella Francescana delle Madri Missionarie di Camogli. Questa foto su Facebook e anche sul profilo di Suor Rosa. Nel rifugio dello Strar di Camogli vivono 16 ragazze tra i 21 e i 33 anni e due bimbi, figlie di due di loro. Per gli ultimi aggiornamenti andiamo in redazione. Per noi oggi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Un flash di cronaca. La Polizia di Stato ha arrestato un nomade, 54enne, autore di innumerevoli truffe a Genova e in tutto il Nord Italia. L'uomo di origine astigiana, colpito in Liguria, ma anche a Parma, Piacenza, Lodi, Cuneo e Verona. Era solito fingersi un finanziere, un funzionario dell'Inps oppure un dipendente comunale. Dopo aver messo le persone nella condizione di credere di poter ottenere un imborso oppure delle somme arretrate, si faceva consegnare sia i documenti sia al banco ma con relativo codice. La lunga scia di delitti si è conclusa alla Spezia dove il truffatore è stato arrestato. Il 54enne aveva appena messo a segno il suo ultimo colpo. A te Cristina. Grazie. Parliamo ora di alcune delle tante iniziative in programma per la giornata di domani, 8 marzo, giornata mondiale della donna. Vediamo pubblicata sul nostro sito internet una serie di iniziative di sensibilizzazione organizzate dal Comune di Genova. Domani alle 10.30 nel Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale la firma di un nuovo protocollo regionale per la prevenzione del contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e soggetti deboli. Tra gli obiettivi di questo protocollo l'istituzione nei presidi ospedalieri di tutta la regione di un percorso di accompagnamento per le vittime della violenza. La giornata proseguirà alle 14 nel cimitero di Staglieno con 100 donne vestite di rosso, flash mob organizzato grazie al Comune di Genova e alla Regione di Curia. Alle 16 nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi sarà inaugurata la mostra fotografica Danza Sorella con gli scatti di Agnese Marchitto, artista genovese che attraverso 12 immagini invita ad una riflessione sulla bellezza e un parallelismo tra il mondo della donna e quello del patrimonio storico del Comune di Genova. La mostra proseguirà nello spazio aperto di Palazzo Ducale dalle 10 al 25 marzo con orari 9.30, 12.30 e 14.18. E concludiamo questa edizione del telegiornale con una lieta notizia, un altro fiocco questa volta azzurro per la grande famiglia di Telepace. Alle 19.35 di ieri sera è nato Alessandro Ferro, quarto figlio della nostra amica e redatrice Emanuela Castello e del collega giornalista Andrea Ferro. Emanuela, che da qualche tempo non vedete più sui nostri schermi, ha partorito all'ospedale di Lavagna un maschietto del peso di 2,750 kg che vediamo in questa fotografia. Mamma e figlio godono di ottima salute, così come le tre sorelline Letizia, Carole e Veronica che aspettano a casa il fratellino e all'emozionato papà Andrea che accorcia le distante sulla dominante femminile in famiglia. Lo staff di Telepace è lieto di condividere la gioia di questo momento con i migliori auguri per il nuovo nato e per tutta la sua famiglia. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione ritorna questa sera alle 19.15, 20.30, 22.45. Vi ricordo lo spazio di approfondimento del Buonasera in diretta alle ore 20. Questa sera parleremo della giornata dei ministeri laicali, delle cantorie e delle 24 ore delle signore che si celebreranno da venerdì a sabato. È davvero tutto, arrivederci e a domani. Grazie a tutti.